Oggi siamo in l'Observatorio Astronomical Astronomical in Cape Town, il centro nazionale per la ricerca di astronomia in Sud Africa. Voglio mostrarvi il nuovo telescopio di radiotelescopo di Spider che abbiamo appena installato in loro cittadino. Qui gli astronomi fanno ricerca fondamentale in astronomia e l'astrofisica. E l'Africa è uno dei paesi coinvolgiti nell'incredibile radiocellescopo di SKA e per questo l'interesse di radioastronomia è molto alta. E qui abbiamo installato un nuovo radiocellescopo di Spider 300A con una antenna di diametre di 3 metri e una grande monta di weatherproof che permette di fare la radioastronomia anche in condizioni bassi e venti. Il radiocellescopo è rimotamente controllato da una sala di controllo dove abbiamo installato il nostro servizio, un computer con software controllo e unità di power. Vieni con me! Nel rack abbiamo appena installato il nostro servizio radioastronomia con il controllo di potere e il controllo di dati per il radiocellescopo e il computer con il software Radio Universe Pro per controllare il radiocellescopo, collettare e processare data. Il radiocellescopo di Spider 300A è ora pronto! Facciamo la nostra prima luce! A presto! 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 A presto!